ragazzi non potevo fare almeno di parlare di questo argomento in una giornata come oggi perché in tanti ormai si stanno sbilanciando anche ad allegri direttamente hanno fatto questa domanda l'hanno fatta anche a vlaovic tutto sport titola juve ci sei anche te per lo scudetto e quindi si parla di scudetto juve nuova provocazione scudetto juve io ve l'avevo fatta col milan se ricordate vi avevo detto provocazione scudetto se dovessimo vincere col milan ci credereste perché poi il milan c'è l'inter a san siro e aggiungo la prossima settimana l'inter c'è il napoli al maradona quindi nuova provocazione scudetto all'epoca praticamente nessuno mi aveva risposto di sì mi avevano dato tutti del passo e intendiamoci non sono qui a dirvi che credo nello scudetto anzi sono qui a dirvi l'opposto non credo nello scudetto della juventus non ci credo facciamo così non ci credo lo voglio dire con grande chiarezza e grande naturalezza poi eventualmente sarò il primo ad essere contento di essermi sbagliato però sono anche qui a dirvi che per tutto il tempo vi ho parlato di un inter e per tutto il tempo intendo da quest'estate da quando chiude il calcio mercato estivo di un inter palesemente più avanti rispetto a tutti gli altri e che poi sul campo anche era riuscita a tradurre la qualità della rosa in un gioco spumeggiante un gioco che era valso il miglior attacco della serie a e che tuttora vale il miglior attacco della serie a dall'altra parte però bisogna sottolineare come l'inter da qualche giornata a questa parte non stia più dimostrando chissà che cosa già prima della pausa la vince all'ultimo secondo a san sero una partita che sulla carta in realtà doveva vincere con più tranquillità nel milan gioca benissimo il primo tempo nel derby con il milan gioca benissimo il primo tempo ma poi qualcosa stacca è un inter che non sembra più avere quella fisicità e quell'energia no più l'energia che la fisicità quell'energia che aveva accompagnato il cammino da inizio anno e ne paravo con mastrangelo durante la pausa mi diceva le stesse cose abbiamo i giocatori con le pile scariche abbiamo alcuni giocatori che non rendono più come all'inizio e sembra quasi che sia un po finita l'acqua l'energia la bomba diciamo così io non sono qua a dirvi che l'inter perderà lo scudetto ma sono qui a dirvi che mi sembra doveroso sottolineare come una lotta scudetto che fino a una decina di giorni fa un paio di settimane fa io in primis consideravo chiusa con la vittoria del milan e con lo scontro diretto tra inter atalanta adesso è un'altra scudetto clamorosamente riaperta poi io voglio tornare un attimino al discorso che facevamo da dicembre in poi parlando della juventus in questo caso perché lo sapete fino al 28 di febbraio io continuerò a dire una cosa una cosa sola e cioè che la zona champions quindi almeno il quarto posto per la juve rimane utopia lo dico anche adesso anche oggi ma non perché lo stia credendo ma perché avevo fatto una promessa e cioè che fino al 28 di febbraio questa sarà mia posizione quindi ve la ripeto utopia la zona champions per la juve non sto credendo davvero quello che dico è però è stata una promessa e diventa una promessa perché voi direte ma scusa luca stai dicendo un controsenso stai dicendo una puttanata ma io dall'altra parte vi faccio questa domanda perché dopo tutto questo entusiasmo e questa dose di entusiasmo credo che sia anche doveroso ritornare un attimo con i piedi per terra noi domenica giochiamo con l'atalanta ok in serie a una partita che oserei considerare e dire vitale noi in questo momento non abbiamo mai vinto contro le prime quattro in classifica l'atalanta c'ha anche una partita da recuperare al pari dell'inter significa che potenzialmente la juve è ancora quinta potenzialmente vi dico che però vincere a pergamo vincere con l'atalanta intanto andrebbe a finalmente mettere a casella tre punti sugli scontri diretti e sarebbe l'ultimo vero scontro diretto per la zona champions per la zona champions e quindi da fare assolutamente perché fino adesso non l'abbiamo ancora fatto e ne abbiamo bisogno alla grande e da quella partita li passa tanto perché se la vinci è ovvio che quell'utopia e quel 28 febbraio che si avvicinano diventa molto più certezza di attenzione ci siamo anche noi siamo dentro la zona champions perché lo dico con grande chiarezza ma l'ho detto subito dopo la chiusura al mercato invernale questa juve non può più puntare a entrare nei primi quattro ma lo voglio proprio sottolineare perché sono cambiati gli equilibri è ancora troppo presto è passata solo una partita ma io vi parlo sulla carta non di quello che ho visto ieri sera sulla carta questa juve ora ha un impegno più grande che non è lo scudetto ma arrivare secondi o arrivare terzi è tutta un'altra storia perché capisci di essere entrato dentro il campionato la lotta scudetto verosimilmente ad oggi tra inter napoli e milan e già dalla partita del san paolo capiremo tante cose ma è quello che vi dicevo prima se poi perdiamo con l'atalanta allora quell'utopia che vi dico oggi diventa molto più certezza perché poi l'atalanta ne recupera anche un'altra ti allunga se vinciamo con l'atalanta allora quell'utopia è una stronzata però capite quanto stiamo parlando di equilibri delicati e precari che possono essere rivoluzionati appunto da cose come il mercato invernale o cose come assenze per atalanta perché potrebbero non avere duvan zapata sicuramente non avrà musso espulso quindi non ha senso partire oggi in quarta in quinta e dirvi ragazzi io adesso nella zona champions ci credo al 100 per cento perché non è così perché la partita di domenica già è un campanello d'allarme importantissimo e vincerla ti darebbe quel boost in più per credere anche eventualmente in qualcosa in più rispetto al mero quarto posto perché oggi stiamo parlando di zona scudetto inter napoli e milan ed è giusto che sia così perché sono lì tutte attaccate ve ne dico un'altra se l'inter non dovesse vincere il recupero con il bologna e se la juventus dovesse invece vincere la partita di bergamo con con l'atalanta e se l'inter non dovesse vincere a napoli quindi sono tre condizioni concatenate importanti e non per niente scontate se queste tre condizioni vanno come devono andare per i tifosi della juve non avrò problemi a dire che anche la juventus cadrà di diritto dentro la lotta scudetto ad oggi siamo 8 punti dall'inter potenziali 11 quindi significa che non ne fa tre col bologna che non ne fa tre col napoli e che invece noi ne facciamo tre con l'atalanta e quindi ci attacchiamo ad oggi parlare di inter e napoli che sono fuori dalla lotta scudetto è semplicemente follia e ad oggi parlare di juve dentro la lotta scudetto è semplicemente follia ma qualche settimana fa l'atalanta faceva sette risultati utili consecutivi fuori casa cosa che nella sua storia non aveva mai fatto mai e si parlava di scudetto poi butta via tutto roma 0 0 con l'inter sconfitta col cagliari e vedi che qualche punto inizia a lasciarlo indietro questa juve ora al dovere di fare quel qualcosa in più rispetto al quarto posto poi vi dico magari non arriveremo nemmeno quarti ne avremo quinti o sesti non lo so perché il calcio è bello proprio per questo però il calendario è benevolo per la juventus e la sfida con l'inter e la sfida con l'atalanta anzi prima l'atalanta e poi l'inter saranno due campanelle al darme importantissime per quello che vi dico se noi battiamo l'atalanta l'inter non vince col bologna e l'inter non vince col napoli attenzione perché poi l'inter viene a giocare all'oviento stadium e significa che la juve per forza di cose dopo è dentro la lotta scudetto ma parlare oggi oggi di lotta scudetto è follia non tanto per la qualità della rosa perché secondo me ad oggi la qualità della rosa della juve non dico che sia migliore quella dell'inter ma penso che sia abbastanza vicina l'inter ancora qualcosa in più secondo me e qualcosa in più ce l'ha anche per via del fatto che è campione d'italia e quando uno è campione d'italia ha delle grosse consapevolezze e non possiamo assolutamente pensare che la juve che fino a un paio di settimane fa non consideravamo idonea nemmeno per raggiungere il quarto posto ad oggi sia più forte dell'inter perché stiamo parlando di di niente se no se pensiamo a queste cose stiamo veramente parlando del niente ma bisogna ammettere che la juve ad oggi ha una squadra che si è potenziata e di tanto e ha delle soluzioni in più delle armi in più e dei giocatori freschi e questo questa ondata di entusiasmo potrà dare qualcosa però ricordatevi che domenica c'è l'atalanta e ad oggi l'obiettivo della juve il quarto posto quello che succederà più avanti poi è tutto da vedere ci sono 42 punti in spaglio a livello matematico tutto è possibile la juve non è fuori matematicamente dalla lotta a scudetto e potrebbe rientrarci però capite bene che per far rientrare la juve nella lotta a scudetto intanto deve mollare l'inter cosa non scontata e non banale e in seconda battuta se molla l'inter c'è il napoli c'è il milan e potenzialmente pure l'atalanta visto che ha una partita da recuperare quindi non significa che se molla l'inter allora ci entra di diritto la juve no non è così non è così però oggi bisogna dirlo la lotta a scudetto è tutta aperta non in questo momento non c'è la juve c'è più l'atalanta che la juve ad oggi ma stiamo parlando di 7 febbraio 2022 e poi bisogna stare attenti perché ci sono alcune partite che saranno importantissime non credo nello scudetto perché non credo che quelle tre partite che vi ho detto prima quelle tre condizioni vadano a realizzarsi dovessero realizzarsi quelle tre mettetevi in testa nel cervello programmata la partita tra juventus inter e juventus stadium perché potrebbe voler dire che questo campionato avrebbe un finale folle davvero folle scritto da un matto da un pazzo perché questa juve si è giocata tanto nelle prime quattro gare nelle prime quattro partite ieri sera allegri ha detto se avessi avuto quattro punti in più potrei anche crederci una nota a scudetto però quattro punti su 42 significa un paio di partite sbagliata dagli altri e che tu fai quindi ieri sera allegri non ti ha detto al cento per cento non credo nello scudetto ti ha parlato di quattro punti in più che dovresti avere che sono niente io non vi parlo di punti perché ne abbiamo lasciati indietro come ne ha lasciati indietro gli altri ci sono dei rimpianti ci saranno sempre io vi parlo di partite importanti da tenere d'occhio e fermo restando che io fino al 28 di febbraio considero impossibile e utopica anche la zona champions e qualcuno potrebbe dirmi no dai sei troppo negativo dipende come finisce a bergamo fatemi sapere un po la vostra posizione ad oggi io rimango della mia stessa idea l'inter è la favorita e non perderà questo scudetto ma occhio perché tutto può chiedere calcio è davvero folle allegri ce l'ha detto l'ha inventato il diavolo quanti avrebbero scommesso un euro sulla vittoria del cagliari a bergamo quanti avrebbero scommesso un euro sulla vittoria dello spezia a napoli e a milano quanti avrebbero scommesso un euro sulla vittoria dell'empoli a torino e a napoli io no sinceramente del sassuolo in casa della juve io no pure sono cose che sono accadute perché un campionato è fatto proprio in questa maniera campionato vai accumulare accumuli 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 e l'equilibrio a continuità sono le armi migliori per vincerlo la juve da qualche giornata a questa parte queste cose le ha messe dentro è ancora molto rivedibile la fase offensiva perché siamo ancora bassi a gol segnati guarda adesso la classifica ne abbiamo fatti 36 in 24 giornate dobbiamo aumentare sicuramente quel dato quella statistica per quanto riguarda i gol subiti abbiamo sistemato alla grandissima nelle ultime partite lo dicono anche tanti clean sheet ma non paratemi oggi di scudetto parare oggi di scudetto o siete tremendamente positivi o siete dei matti o semplicemente la state gufando il non paratemi Grazie a tutti